Uno degli obiettivi che l'amministrazione comunale aveva dichiarato in sede di bilancio e programmazione era quello di procedere con la riqualificazione e sistemazione degli edifici scolastici di proprietà comunale. Tale impegno continua anche nel secondo mandato, grazie all'attenzione rivolta ai bandi europei, nazionali e regionali. Intercettando quei contributi è possibile stanziare i fondi necessari a riqualificare, mettere in sicurezza e a modernare tecnologicamente molte vecchie scuole di Pordenone, per rendere questa città sempre più attrattiva per le nuove generazioni. Si inserisce in questo filone il rifacimento della mensa della primaria Grigoletti a Rorai, un edificio datato nel quale trovavano alloggiamento la mensa appunto assieme a due aule. Partono i lavori di demolizione dell'attuale struttura che ospita la mensa della scuola primaria Grigoletti, che verrà poi ricostruita integralmente con una struttura moderna, efficiente e accogliente per i bambini. I lavori dureranno sei mesi, quindi con i primi mesi dell'anno prossimo potranno essere occupati nuovamente gli spazi. La mensa attualmente per questi mesi verrà realizzata in uno spazio retrostante la scuola, in una struttura già esistente e poi partirà il progetto per la scuola Grigoletti che verrà realizzata in un secondo tempo. Il Comune in questi anni si è posto all'obiettivo di migliorare la funzionalità e il conforto e la sicurezza degli edifici scolastici. Era già partito un imponente piano di investimenti che proseguirà anche quest'anno. La Grigoletti sicuramente ha bisogno di un restyling perché ovviamente i nostri ragazzi devono stare in luoghi sicuri, protetti, garantiti e che rispettino anche i nuovi standard dal punto di vista edilizio. Creare una nuova mensa e poi una nuova scuola dovrà sicuramente dare soddisfazione alle richieste dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori. Il nuovo fabbricato, finanziato quasi interamente dai fondi PNRR, sarà un edificio luminoso, pieno di vetrate, immerso nel verde e circondato dagli alberi, in grado di rispondere alle moderne condizioni di benessere ambientale e illuminazione, privilegiando gli aspetti inerenti risparmio energetico.